Sono giornate le giornate così fredde, quelle durante le quali si ha solamente voglia di leggere libri sotto le coperte, quindi oggi tra un sorso di latte al cioccolato e l'altro andiamo a fare il mio nuovo acquisto per quanto riguarda i libri. Ho appena finito la piccola libreria dei segreti e mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, super natalizia, proprio delle wipes di neve, cioccolata calda, veramente meraviglioso per questo periodo, quindi mi sento di consigliarvelo. Il tetto di questa tazza è veramente fastidioso. Ho già perlustrato il booktok e ho trovato il prossimo libro che andrò a leggere e lo volevo acquistare insieme a voi. Ed eccolo qui, vediamo se lo troviamo e soprattutto quanto costa. Ovviamente tutti i libri che voglio leggere non sono inclusi con Kindle Unlimited, ma lo sapevo già. Uh, costicchia questo, costicchia. Non me lo aspettavo, di solito sono 5-6 euro così. Però sì, ormai mi ci sono fissata e ho visto che tra l'altro sono un sacco un sacco di pagine, quindi acquistiamolo. Compra. Fatto! Ed eccolo qui, pronto da leggere nella mia libreria.